Questo libro si chiama L'avventura di Costanza. Questa è la storia di Costanza che scappò dalla sua stanza perché era stufa di insalate e voleva mangiare carote dorate. Se Costanza col suo secchiello non fosse corsa nell'orticello a cogliere carote profumate, che certo erano maturate, avrebbe sentito la mamma gridare, un temporale sta per arrivare! Se Costanza non fosse andata a fare di carote una scropacciata, non avrebbe scordato il secchiello proprio in mezzo all'orticello. Se Costanza non fosse tornata a cercare il secchiello che si era scordata, non sarebbe finita pum patapum fra l'isalata a gambe in su. Se Costanza pum patapum non fosse finita a gambe in su nella iuola dell'insalata, Bobby dall'orto non l'avrebbe cacciata. Se Costanza non fosse fuggita di gran carriera da Bobby inseguita, certo avrebbe per terra veduto il fazzoletto che le era caduto. Se Costanza, come abbiamo detto, non avesse perduto il fazzoletto, nel bell'orto di Gaetano, che faceva l'ortolano, certo lui non avrebbe trovato il fazzoletto che a lei era cascato. Se Gaetano non avesse trovato là nell'orto abbandonato il fazzoletto di Costanza, che era fuggita dalla sua stanza, non ne avrebbe seguito le tracce sul sentiero e fra le erbacce, per ridarle il fazzolettino da lei perduto quel mattino. Se non avesse Costanza cercato, certo Gaetano non avrebbe notato che quella monella all'esta all'esta si addentrava nella foresta. Se non l'avesse di corsa seguita nella foresta dove era finita, certo lui non avrebbe notato che era seguita da un lupo affamato. Se Gaetano non avesse notato quel grosso lupo molto affamato, non gli avrebbe dato un pugno ben dritto in mezzo al grugno. Senza il pugno tempestivo che tramortì il lupo cattivo, quell'imprudente di Costanza non sarebbe tornata nella sua stanza. Se dunque Costanza non avesse avuto voglia di carote, non sarebbe andata nell'orto, non avrebbe scordato il secchiello, non sarebbe tornata a prenderlo, non sarebbe caduta nell'insalata, non avrebbe perduto il fazzoletto. E se Gaetano non avesse trovato il fazzoletto, non avrebbe seguito Costanza, non l'avrebbe vista entrare nella foresta, non avrebbe notato il lupo, non l'avrebbe tramortito con un pugno, e Costanza per lo spavento non sarebbe svenuta sul momento. Quando rinvenne Gaetano abbracciò e con voce solenne promise e giurò, mai più fuggirò dalla mia stanza, lo giuro, parola di Costanza. Ciao a tutti, spero che vi sia piaciuta questa storia in rima.